Guida post installazione di Linux Mint 22, prima parte. Vediamo le prime cose da fare dopo aver installato Linux Mint, una configurazione iniziale anche per aggiornare e mettere a punto e in sicurezza il sistema. Nella prossima vedremo ulteriori accorgimenti che a mio parere si rendono utili prima di cominciare a lavorare e divertirsi. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Nelle mie intenzioni questo tutorial segue logicamente quello sulla installazione facile o avanzata di Linux Mint. Sempre nelle mie intenzioni, a causa della quantità di argomenti da trattare, suddivido la configurazione iniziale di Linux Mint in due parti. La prima, questa stessa, segue i primi passi suggeriti anche dal team di Linux Mint per garantire anzitutto al sistema aggiornamenti e gli importanti interventi utili a mantenerlo in sicurezza, aggiungere eventuali driver proprietari se disponibili e per cominciare ad esplorarlo e scoprire ed installare nuovi programmi. La seconda parte, che chiamerò configurazione aggiuntiva di Linux Mint 22, interverrà su ulteriori aspetti, oltre le indicazioni di base della schermata di benvenuto. Fanno ormai parte delle mie abitudini non appena effetto una nuova installazione di Linux Mint e ritengo utile suggerirle. Partiamo. Al primo avvio da hard disk dopo l'installazione di Linux Mint, una schermata di benvenuto accoglie l'utente. Non è lì per motivi estetici, ma è davvero molto utile. Conviene dedicarle attenzione. Contiene informazioni importanti, i riferimenti alla documentazione ufficiale e il collegamento diretto al forum ufficiale online o alla chat room di messaggistica Matrix per ottenere assistenza in caso di dubbi o problemi. E soprattutto, alla scheda Primi passi, elenca una serie di operazioni da compiere per mettere a punto il sistema operativo, garantire gli aggiornamenti e sicurezza e personalizzarlo. Seguiremo ovviamente anche tali indicazioni in questo tutorial, ma io preferisco seguire una diversa priorità per alcune operazioni suggerite nei primi passi. La prima operazione che io compio, dopo una nuova installazione di Linux Mint, consiste infatti dell'attivare il firewall integrato. La porta tagliafuoco che blocca ogni tentativo di ingresso nel tuo computer dall'esterno. Alcuni sostengono che nell'era in cui ci colleghiamo ad un router e non ad un semplice modem, questo accorgimento potrebbe lasciare il tempo che trova. Ciò perché spesso un filtraggio è previsto già proprio nel software firewall del router. E che inoltre, per impostazione predefinita, Linux non apre porte di servizi del PC raggiungibili dall'esterno. L'argomento può sembrare già di per sé complesso, ma attivare il firewall è una precauzione da prendere. Linux Mint rende la vita facile perché permette di attivare e configurare il firewall UFW, Uncomplicated Firewall, senza intervenire da rigue di comando. E ciò grazie ad un'interfaccia grafica semplicissima che puoi richiamare dal menu sotto prefedrenze o digitando GUF oppure Firewall nel campo di ricerca e premendo invio sulla tastiera. Conferma l'apertura di configurazione del firewall indicando la tua password di accesso, la stessa che hai scelto in fase di installazione e usi per il login. Stiamo per modificare impostazioni delicate di sistema, solo l'amministratore del sistema può intervenire. La password serve a renderti temporaneamente amministratore per farlo, perché come regola, per sicurezza, adopere il tuo computer con Linux con permessi limitati. Aperta la finestra è sufficiente intervenire sull'interruttore stato per attivare il blocco delle connessioni in entrata. Nel firewall grafico di Linux Mint sono previsti molteplici profili casa, ufficio, pubblico, a ciascuno dei quali sono associabili differenti regole per i programmi, più spesso quelli di condivisione, che hanno bisogno di libertà di accesso al tuo computer per funzionare correttamente. Ma con il firewall puoi anche impedire, invece che autorizzare, il traffico in entrata e o in uscita da parte di specifiche applicazioni. Diventa comodo, grazie ai profili, prevedere ad esempio una regola nel profilo casa per consentire il traffico di condivisione di file torrent e per le connessioni alla rete domestica. Al lavoro o in circostanze di connessioni a reti pubbliche, potrai applicare il profilo lavoro o pubblico con differenti regole. Per ora puoi limitarti ad attivare il firewall senza creare regole ed eccezioni. Ricorda soltanto che hai il firewall attivo qualora avessi problemi in applicazioni di streaming o condivisione in rete specialmente. In tal caso, passa alla scheda regole del firewall. Le regole consentono a specifici programmi di varia natura di accettare connessioni dall'esterno al tuo PC su specifiche porte. Ce ne sono tantissime già pronte per tanti tipi di programmi e applicazioni. Puoi aggiungerne una cliccando sul segno più e sfogliando categorie e sottocategorie di regole preimpostate. Trovata quella giusta, puoi applicarla con un clic su aggiungi. Qualche minuto dopo il primo avvio da hard disk della nuova installazione di Linux Mint, nel pannello di icone in basso a destra e in cui si trova anche l'orologio, potrebbe essere già apparsa tra le altre cosiddette applet di stato un'icona con punto esclamativo è l'icona dell'utilità a rapporti di sistema che, specie dopo una nuova installazione o quando venga rilasciata una nuova versione del sistema operativo, cerca di richiamare la tua attenzione. Un clic sull'icona apre il riepilogo dei rapporti di sistema. Potrebbe avvisarti della necessità di scaricare ulteriori cosiddetti pacchetti di traduzione per qualche applicazione, di applicare driver proprietari ad alcune periferiche come le schede grafiche Nvidia o alcuni tipi di chip wifi e bluetooth. E infine di allestire la pianificazione dei punti di ripristino del sistema. Nel corso del tutorial affronteremo sia la pianificazione dei punti di ripristino che l'installazione di eventuali driver proprietari. Quindi per ora puoi limitarti a confermare solo l'eventuale scaricamento di traduzioni e chiudere rapporti di sistema. Tieni presente che in caso di dubbi, anomalie o chiusura imprevista di alcuni programmi, all'interno di rapporti di sistema trovi anche un riepilogo delle informazioni sul tuo hardware e i rapporti relativi ad arresti anomali. Informazioni utilissime da fornire a supporto di richieste nel forum italiano degli utenti di Linux Mint per trovare assistenza. Dopo l'attivazione del firewall suggerisco di provvedere alle operazioni preliminari legate agli aggiornamenti di sistema e all'applicazione di quelli già rilasciati dopo la pubblicazione del file di installazione del sistema operativo. Come ho spiegato in varie occasioni, anche nel video sulla sicurezza e privacy di una postazione Linux, una tempestiva applicazione degli aggiornamenti rilasciati per il sistema operativo, il kernel Linux e i programmi, rappresenta il modo migliore, se non davvero l'unico, per garantire il massimo della sicurezza al tuo PC con Linux. È indispensabile essere a conoscenza di cosa siano i repository prima di provvedere. Se non lo sai, i repository di un sistema operativo Linux sono i suoi archivi ufficiali di pacchetti software installati e installabili. Vi risiede ogni singolo componente software di cui è fatto il sistema operativo e decine di migliaia di programmi aggiuntivi, tutti testati e verificati dal team di sviluppo del sistema operativo prima di essere inclusi nei repository. Ci sono molti cloni, cosiddetti mirror, di targli archivi in giro per il mondo, sempre sincronizzati con quello principale. Questo per garantire le migliori prestazioni nello scaricamento di aggiornamenti e nuovi programmi ovunque ti trovi. L'ufficialità dei controlli effettuati su quanto distribuito in questi archivi è tra le prime ragioni per cui è quasi impossibile prendere un virus in Linux, perlomeno se ci si affida solo ai programmi IVI contenuti. Il rischio aumenta se si aggiungono tra le fonti software fidate, repository non ufficiali o se si provvede a differenti formi di installazione di applicazioni non verificate alla fonte. Rientrano in questa categoria programmi per Linux scaricati da un sito web che non conosci e di cui non hai accertato l'autorevolezza. O peggio, installati copiando e incollando in una finestra di terminale comandi che non comprendi e che non sono sufficientemente documentati. Specie se per eseguirli devi indicare la password da utente onnipotente. Queste ultime due azioni sono le maggiori minacce alla sicurezza del tuo PC con Linux. Non c'è antivirus che tenga, quindi tienilo presente. E visto che siamo in tema, se hai sentito parlare in tempi recenti di una grave vulnerabilità legata a Linux, sappi che, per le sue politiche legate agli aggiornamenti, Linux Mint e i suoi repository non sono stati minimamente sfiorati dal problema. Se hai ancora la schermata di benvenuto aperta sui primi passi, verifica il paragrafo che introduce gestori aggiornamenti. Poi aprilo cliccando sul tasto esegui. Ma c'è un modo ancora più semplice per avviare gestori aggiornamenti. Si tratta dell'unico segnale cui dovrai fare attenzione nel pannello di icone di destra accanto all'orologio. Durante il tuo utilizzo quotidiano di Linux Mint. Per mantenere il sistema sempre aggiornato, noterai l'icona a forma di scudo per gli aggiornamenti. Quando sono disponibili c'è un pallino rozzo. Clicca sull'icona. Al primo avvio, dopo l'installazione di Linux Mint, si presenterà in questo modo. Consiglio di leggere perché non c'è modo migliore di capire e di imparare che prestare attenzione a ciò che Mint ti spiega di fare. Poi puoi tranquillamente premere OK. Il gestore aggiornamenti di Linux Mint mette subito in evidenza che hai impostato il repository ufficiale centrale. Ma potresti passare ad un mirror locale, ovvero uno localizzato più vicino a te. In questo modo renderai poi più veloce il controllo e lo scaricamento degli aggiornamenti del sistema e delle applicazioni che installerai. Conferma con sì il passaggio ad un mirror locale. Si aprirà la finestra di impostazione delle origini software. Per ora devi soltanto notare la selezione che riepiloga i mirror e cliccare sull'indirizzo web di quello principale. Si aprirà l'ulteriore finestra con tutti i mirror disponibili. Verranno contattati uno alla volta in modo da riordinare in pochi istanti l'elenco dal più veloce a scendere. La velocità massima è un fattore molto variabile e capita che alcuni stranieri siano più veloci di quelli italiani. Scegliere il più veloce è sempre la scelta più saggia. Selezionato il mirror principale, specifico, di Linux Mint, dovrai ripetere il passaggio cliccando sull'indirizzo impostato per il mirror base. Questo si riferisce al cuore che Mint condivide con le versioni più stabili e di più lungo supporto di Ubuntu. Selezionato un differente mirror base, vedrai che Gestori Aggiornamenti mostra un invito. Non sei in possesso di un elenco aggiornato di tutti i file disponibili nei repository gestiti da Mint con il programma APT perché hai cambiato configurazione. Ti invita quindi ad aggiornare la tua copia cache riscaricando da internet gli elenchi dei software disponibili. Il gestore aggiornamenti mostra quindi l'elenco di pacchetti e applicazioni che necessita di essere aggiornato. Se premi il pulsante Installa Aggiornamenti, sporadicamente potresti venire avvisato di ulteriori file che devono essere aggiornati assieme a quelli in elenco. Conferma con OK. Attendi lo scaricamento e la configurazione dei pacchetti che può richiedere diversi minuti al primo avvio dopo una nuova installazione. Al termine delle operazioni verrai avvisato che il sistema è aggiornato. Puoi chiudere la finestra e restare tranquillo finché nel pannello di destra l'icona con lo scudo degli aggiornamenti non mostra il pallino colorato. Gli aggiornamenti arrivano anche più volte in un giorno o non ne arrivano per giorni, ma non sono pesanti in termini di dati da scaricare e non richiedono quindi tanto tempo. Li applichi quando vuoi, non interrompono mai le attività e solo quando il kernel Linux, il nucleo del sistema operativo ad essere aggiornato, suggeriscono un riavvio per essere applicati. Il riavvio però richiede i tempi soliti. Questo per dire altro che Windows. Lo ribadisco, applicare tempestivamente gli aggiornamenti del sistema e di programmi come il browser è l'accorgimento fondamentale per la sicurezza di un PC con Linux. Perché quando un aggiornamento di sistema o del browser viene rilasciato, sono resi pubblici i difetti che esso corregge. Se c'erano problemi di sicurezza, fin tanto che non aggiorni i programmi interessati, questi possono essere sfruttati da malintenzionati che, con le dovute competenze, sono in grado di prendere il controllo del computer senza che tu neppure te ne accorga. Se stare dietro alle notifiche di aggiornamenti ed applicarli manualmente non fa per te, meglio non rischiare di trascurarli e impostarne lo scaricamento e applicazione automatica. Non tutti sono d'accordo su questo. Alcuni ritengono che ogni singolo pacchetto disponibile per l'aggiornamento dovrebbe venire valutato con attenzione per comprendere se esso possa avere impatto potenzialmente problematico sul sistema. Ma spesso parlano di situazioni differenti da quella della postazione fissa o portatile di un singolo utente e si riferiscono all'ambito server, in cui anche solo dover affrontare un riavvio è operazione da pianificare con oculatezza. Io stesso, a parenti ed amici, tra quelli meno esperti, cui ho installato Linux Mint nei computer, imposto questa opzione. E finora, in diversi anni, non ho mai affrontato problemi dopo un riavvio o un aggiornamento. Certo è che ti consiglio di impostare gli aggiornamenti automatici per Linux Mint solo se hai attivato la pianificazione dei cosiddetti snapshot, i punti di ripristino di sistema, in modo da poter comunque riportare il computer ad uno stato precedente qualora un aggiornamento fosse davvero tanto problematico da impedire un riavvio normale. Affrontiamo tale procedura subito dopo aver terminato con gli aggiornamenti. Perché Linux Mint scarichi ed applichi automaticamente gli aggiornamenti appena si rendono disponibili, apri gestori aggiornamenti dalla sua icona applettaforma di scudo. Nel menu entra su Modifica, Impostazioni e vai alla scheda Azioni Automatiche. Qui trovi l'interruttore da attivare per automatizzarli. E come vedi è scritto ben chiaro che è opportuno configurare i cosiddetti snapshot se prevedi l'automazione. Dal momento che si tratta di una modifica al sistema dovrai indicare la tua password perché la modifica abbia luogo. Visto che siamo in questa finestra, io ti consiglio di attivare anche la manutenzione automatica, che tu abbia spazio su disco limitato o meno per Linux Mint. Gli aggiornamenti del kernel Linux non sono molto frequenti, ma ognuno di essi richiede lo scaricamento di quasi 600 MB di dati. Quando arriva un aggiornamento per il kernel, esso sostituisce automaticamente il precedente al successivo riavvio. Ma nessuno di quelli superati viene eliminato per impostazione predefinita. È quindi facile accumulare, senza alcuna convenienza, GB di dati che occupano inutilmente spazio su disco. Ecco perché vale la pena rimuovere automaticamente i kernel superati attivando l'apposito interruttore. Del resto, come chiarito nella finestra, verrà mantenuto almeno il precedente kernel rispetto a quello in uso. Questo garantisce la possibilità di riavviare il computer con il precedente, qualora un nuovo kernel introducesse una cosiddetta regressione, ovvero un problema emergente dovuto alle novità portate al kernel stesso. Garantiti gli aggiornamenti al computer con Linux Mint, arriva il momento di metterlo in sicurezza sotto un altro punto di vista. Come potrai notare, sia nei primi passi della schermata di benvenuto, sia nei rapporti di sistema, il primo suggerimento di Linux Mint è quello di impostare le istantanee di sistema automatiche con Timeshift. Timeshift è un'applicazione grafica che consente di pianificare backup del sistema operativo. Viene salvata una cosiddetta istantanea del sistema ad un momento preciso, e ciò per poter riportare il computer ad uno stato precedente nel caso qualcosa smetta di funzionare. Si tratta di quelli che in Windows vengono chiamati punti di ripristino. Il bello di Timeshift è che se il computer nemmeno si riavvia dopo qualche operazione maldestra o aggiornamento problematico, sei in grado di riportarlo comunque ad uno stato funzionante ricorrendo alla chiavetta USB che hai adoperato per installare Linux Mint. Chiavetta che dico sempre di riservare stabilmente a Linux Mint e di tenere a portata di mano perché sono tantissime le occasioni in cui essa può risolvere in un attimo situazioni complicate. Avviando infatti Linux Mint dalla sua chiavetta di installazione via USB e aprendo Timeshift in una cosiddetta sessione live del sistema, potrai recuperare l'istantanea all'interno del disco fisso e ripristinarla per poterlo nuovamente avviare. Nella schermata di benvenuto clicca quindi su Esegui sotto l'anteprima di Timeshift, oppure apri l'utilità da rapporti di sistema se ti ha già notificato l'esigenza di provvedere. Ricorda che trovi comunque Timeshift aprendo il menu, digitando Time e premendo Invio, oppure sotto la categoria Amministrazione del menu principale. Trattandosi di un'applicazione che interviene su impostazioni del sistema è richiesta l'indicazione della propria password. Ti consiglio estrema cautela con il numero di cosiddetti snapshot che intendi mantenere. Potresti esaurire rapidamente lo spazio a disposizione o doverti limitare nell'installazione di applicazioni o salvataggio di altri file. Ecco perché raccomando sempre almeno un centinaio di gigabyte da riservare a Linux Mint se intendi usarlo assiduamente e non solo esplorarlo superficialmente. Puoi anche stabilire che i backup di sistema vengano memorizzati in un hard disk diverso e sarebbe anche meglio, perché se il problema al computer sorge per un malfunzionamento dell'hard disk potrai sostituirlo e ripristinare nel nuovo l'ultimo stato delle cose. Ma ricorda che, anche se successivamente alla prima vengono salvati solo i nuovi file e quelli modificati, ogni istantanea può occupare anche diversi gigabyte. Ricorda inoltre che se a dispetto del suggerimento in Timeshift vuoi che vengano copiati anche i tuoi file e documenti, oltre allo stato del sistema operativo, dei programmi installati e delle configurazioni, la dimensione di ogni backup aumenterà a dismisura. Se il primo avvio di Timeshift non ha già avviato la configurazione, premi il pulsante Configurazione guidata per cominciare. Con l'opzione R-Sync selezionata premi avanti. Timeshift effettuerà una rapida verifica dei supporti interni o esterni che puoi usare come destinazione delle copie. Ti suggerirà solo unità che siano formattate con il file system EXT4 e non anche quelle NTFS. Non puoi quindi salvare gli snapshot in una partizione di Windows per intenderci. A meno quindi che tu non intenda formattare un nuovo supporto usando Linux, vedrai solo l'unità su cui hai installato il sistema. Oppure di più se hai scelto di creare manualmente anche una partizione per home o swap in fase di installazione di Linux Mint. Premi avanti. In caso di problemi bastano un paio di istantanee. Anche se l'ultima istantanea è vecchia di qualche giorno, dopo averla ripristinata, controllare e applicare eventuali aggiornamenti basterà riportare al meglio il sistema. Io quindi consiglio di mettere il segno di spunta su settimanale e impostare due o tre come numero di istantanee da mantenere. Ad ogni nuova istantanea creata, la più vecchia verrà eliminata e lascerà così spazio all'ultima, preservando comunque l'integrità del sistema. Nel momento in cui attivi la spunta su una delle opzioni di pianificazione, diviene disattivabile anche l'opzione ferma le email di Cron per le attività pianificate. In caso contrario riceverai una email con il risultato di ogni operazione. Fa come vuoi, io lascio sempre attiva la spunta per non riceverne alcuna. Premi avanti. Adesso noterai che sia la cartella dell'amministratore del sistema, slash root, sia la tua cartella utente con i tuoi documenti, in slash home, per importazione predefinita sono non attive e questo significa nessun backup. Questo è un bene. I dati personali devono essere sempre separati dallo stato del sistema. Timeshift non è previsto per salvare documenti e dati personali, nemmeno quelli dell'amministratore del sistema. Lo scopo di Timeshift è di mantenere intatta l'operatività del sistema in caso di problemi software o hardware. Per effettuare copie di sicurezza dei tuoi documenti e dati personali ci sono altri programmi più adatti allo scopo. Ho realizzato un apposito tutorial che ne mostra alcuni e ne descrive l'utilizzo. Perciò solo con molta cautela, pochi file nelle cartelle in home e molto spazio libero includerei tutti i file del tuo utente. Solo file nascosti permette di salvare solo le impostazioni dei programmi e personalizzazioni del sistema ignorando file multimediali e altri documenti. Sappi infatti che le impostazioni di configurazione delle applicazioni installate si trovano all'interno di slash home in cartelle nascoste. Il mio consiglio è quindi di non includere alcuna cartella utente e andare avanti. Abbiamo sistemato anche la creazione pianificata degli snapshot di sistema. Fossi in te leggerei bene cosa ti dice Timeshift. Per esagerare con la cautela nella finestra principale di Timeshift potresti anche premere Crea ed effettuare la prima istantanea allo scopo di verificare la dimensione finale e farti un'idea se la tua pianificazione rischia di fare esaurire lo spazio nell'hard disk. Dopo la creazione almeno di uno snapshot nella finestra di Timeshift vedrai qualcosa di simile. Vedrai la data e l'ora della o delle istantanee salvate e potrai ripristinarle o eliminarle in un istante. Però noterai nel lato inferiore destro della finestra anche lo spazio residuo nel supporto selezionato. Potrai anche pesare ogni istantanea. Per farlo clicca sul pulsante Esplora che aprirà il file manager nella cartella snapshot in cui questi vengono salvati. Selezionane uno poi cliccaci con il pulsante destro del mouse e su Proprietà per farti un'idea di quanto ciascuno di essi occupi in termini di spazio. Se anche successivamente tu volessi cambiare le impostazioni di backup di Timeshift o disattivarlo proprio, prima eliminerei le istantanee salvate. Poi cliccando su Impostazioni alla scheda Pianificazione potrai fare cambiamenti alla cadenza o al numero di copie da mantenere. Oppure togliere ogni segno di spunta per disattivare ogni operazione pianificata. O ancora, senza disattivare intervalli né pianificazioni, sempre in Impostazioni ma sulla scheda Filtri puoi escludere qualche cartella dal backup. Per escludere o aggiungere al backup altri file o cartelle, intervieni sui bottoni nella parte bassa della finestra, sfogli fino alla destinazione desiderata, confermi e poi verifica che accanto alla nuova riga vi sia il segno più se vuoi che venga inclusa nel backup o il segno meno se vuoi che venga esclusa. La schermata di benvenuto suggerisce tra le operazioni da compiere nella post-installazione di Linux Mint 22 quella di verificare se sono raccomandati driver aggiuntivi per qualche componente hardware del tuo computer. La schermata di benvenuto a riguardo chiarisce che la maggior parte dei componenti hardware è riconosciuta automaticamente dal kernel Linux e funziona subito senza installare nulla. Tuttavia alcuni componenti richiedono driver proprietari per essere riconosciuti o funzionare meglio. Il caso più tipico è quello della presenza di una scheda grafica Nvidia che puoi sfruttare al meglio solo con il driver ufficiale. Esso non è open source anche se gratuito ma protetto da copyright e proprietario, come si dice in questi casi. Apri il gestore dei driver dalla schermata di benvenuto oppure aprendo il menu, digitando driver e premendo invio sulla tastiera. Il sistema verificherà se qualche componente necessita di software driver aggiuntivo. Nel mio caso, con una scheda grafica Nvidia, Linux Mint ha preimpostato come driver video quello generico ed open source, il tipico server X. Però mi mostra anche la presenza di molteplici driver proprietari e consiglia l'attivazione del più recente. È quindi consigliabile selezionare dall'apposito pulsante quello consigliato, cliccare sul bottone applica modifiche e attendere lo scaricamento dei circa 600 MB per il driver e il completamento dell'installazione. Al termine, il gestore driver di Linux Mint notificherà la necessità di un riavvio per utilizzare il nuovo driver installato. Nel caso in cui, durante l'utilizzo di Linux Mint, riscontrassi anomalie sullo schermo in applicazioni 3D o visualizzazione di video, potrai sempre selezionare un driver proprietario precedente o quello open source. Il primo passaggio suggerito nei primi passi della schermata di benvenuto è relativo alla personalizzazione grafica, ma a me pare che, almeno per un nuovissimo utente di Linux Mint, scoprire le possibilità di personalizzazione sia secondario rispetto alle esigenze di messa in sicurezza che abbiamo affrontato finora. Cliccare sul tasto Esegui, sotto colori del desktop, apre l'applicazione Temi, che trovi nel menu di Linux Mint Cinnamon sotto Preferenze. È stata recentemente rinnovata e propone una visione semplificata con i temi più nuovi chiamati Mint Y e quelli precedenti, Mint L e Mint X. Per ciascuno di essi si può selezionare il colore principale ed attivare una modalità chiara, una scura ed una mista. In quest'ultima alcune applicazioni sono stilizzate con colori chiari ed altre, specie di grafica, con colori scuri. Qui già c'è di che sbiggiarrirsi. Passando invece alle impostazioni avanzate dei temi potrai anche mescolare elementi grafici di differenti temi per parti differenti di una finestra e del menu principale. E qui la scelta diventa davvero molto ampia. Ma se ancora non basta, dalla scheda Aggiungi i rimuovi dell'applicazione Temi puoi accedere a tanti nuovi temi ed elementi grafici online per l'ambiente Desktop Cinnamon di Linux Mint. Sono stati realizzati dagli utenti stessi di Mint. Una volta scaricato un nuovo tema, i suoi elementi sono resi disponibili tra le singole opzioni nelle impostazioni avanzate. Puoi consultare e scaricare i temi anche dal sito web ufficiale delle cosiddette spezie di Linux Mint cinnamon-spices.linuxmint.com dove ti si aprirà un nuovo mondo di temi grafici, icone, funzioni aggiuntive che permettono all'assetto volutamente minimale e sobrio di Cinnamon di personare Linux Mint con infinite possibilità. Anche cinnamon-look.org è un sito valido per trovare temi grafici e di icone non ufficiali per Cinnamon. Non è questo il luogo per affrontare tali possibilità, ma le ho già ampiamente affrontate in Personalizzare Linux Mint Cinnamon e Nemo, il file manager di Linux Mint Cinnamon, che sono da non perdere per chi è interessato a scoprire personalizzazioni e un'infinità di nuove funzioni per il desktop di Linux Mint Cinnamon. Abbiamo praticamente completato le indicazioni di configurazione importanti suggerite dalla schermata di benvenuto di Linux Mint, che però invita l'utente anche a prendere familiarità con il sistema operativo, aprendo il pannello di impostazioni da cui se ne controlla ogni aspetto. Qui sono tutte riunite, ma ciascuna di esse è comunque raggiungibile singolarmente partendo dal menu principale, sfogliandolo sotto le categorie Amministrazione e Preferenze, oppure digitando i primi caratteri dell'impostazione. Alcune, come le impostazioni di rete, audio o Bluetooth, sono raggiungibili in ogni istante partendo dal pannello delle cosiddette applet di stato, che trovi nella parte destra della barra inferiore. Ti ricordo comunque che per migliorare la conoscenza di Linux Mint c'è il manuale d'uso nel blog. E c'è poi il mio libro, Manuale d'uso di Linux Mint, che integra parti del manuale del blog, con tantissimi contenuti ulteriori ed una succosissima parte di informatica libera, con guide passo passo per imparare a compiere tantissime operazioni di uso comune, con il software disponibile e con altri programmi installabili. Entro la fine dell'anno arriverà una nuova edizione aggiornata a Mint 22, spero anche in versione cartacea, quindi verifica la pagina Libri nel blog o cerca nel tuo store preferito. Tra i suggerimenti finali della schermata di benvenuto c'è quella relativa alla scoperta di gestore applicazioni, l'App Store di Linux Mint, anche se la definizione è solo di comodo e realmente inadeguata perché non ci trovi nulla che vada acquistato. Oltre alla ricca dotazione iniziale di Linux Mint, con cui puoi già compiere tantissime operazioni di uso quotidiano e altre, Gestore Applicazioni ti fornisce un accesso graficamente ben organizzato con cui consultare e installare con un click decine di migliaia di programmi aggiuntivi per fare davvero di tutto. Sono tutti programmi per Linux, disponibili gratuitamente, privi di pubblicità, senza periodi di prova o funzioni limitate che richiedano poi un acquisto. Gestore Applicazioni all'avvio ti presenta uno slideshow ed un'altra selezione variabile di applicazioni in evidenza. Segue poi una suddivisione in categorie per una consultazione più mirata ed un primo elenco dei programmi che hanno ricevuto i voti più alti dagli utenti iscritti alla community di Linux Mint. Ci sono sia i programmi dei repository ufficiali, verificati con attenzione e testati dal team di Linux Mint, sia quelli, contrassegnati con la dicitura FlatHub, che sono testati dai rispettivi sviluppatori emessi a disposizione degli utenti Linux nelle più recenti versioni disponibili. Quando un programma sia disponibile sia nei repository ufficiali sia nel formato chiamato FlatPack dello store FlatHub, nella sua scheda potrai effettuare una selezione alternativa per verificarne la versione e la quantità di dati da scaricare per ciascuna. E potrai anche installarle entrambe se lo desideri. Il formato FlatPack consente infatti di installare programmi indipendentemente dalla versione del tuo sistema operativo Linux senza timore di conflitti software con le cosiddette dipendenze, file esterni al programma di cui esso ha comunque bisogno per funzionare correttamente. I FlatPack infatti contengono ed utilizzano una versione di tali file con cui il programma sia certamente funzionante e che restano legati al programma FlatPack senza interferire con il sistema. A causa di queste caratteristiche potrai notare che i dati da scaricare per un programma da FlatHub sono molti di più rispetto a quelli necessari per la versione indicata come pacchetto, cioè ufficiale e che prevede già nel sistema file dipendenti compatibili. Il vantaggio del formato che viene da FlatHub sta nel fatto che ti garantisce di usare sempre le versioni più aggiornate di un programma senza attendere i test del team di Linux Mint e talvolta di trovarci i programmi che non sono disponibili come pacchetto tradizionale. D'altra parte sono molti di più i dati da scaricare per installarli e aggiornarli e richiedono molto più spazio sull'hard disk e soprattutto fiducia in chi li ha sviluppati visto che non sono testati dal team di Linux Mint. Se mi chiedi un consiglio io ti suggerisco di limitare i FlatPack il più possibile. Altre indicazioni sui formati le trovi nel video Come installare programmi in Linux. Completata l'installazione ed una prima messa in sicurezza del sistema puoi cominciare l'esplorazione del tuo nuovo sistema operativo in tranquillità e attendere il mio prossimo tutorial di configurazioni aggiuntive che potrebbero tornarti utili prima di esplorare eventualmente i video sull'utilizzo di Linux Mint nell'ambito lavorativo. Grazie per la visione, buona scoperta e a presto!